lunedì saranno 109 ma li porti sempre benissimo e sei splendida forma tanti auguri carissima dea che dire di questi 109 anni un pezzo li abbiamo vissuti assieme e questo pezzo è stato ricco di soddisfazioni e di successi e quindi questo ti ringrazio per cui di nuovo tanti auguri e che i prossimi anni siano ancora più belli di quelli appena vissuti ti voglio bene forza atalanta